Sì, vogliamo ringraziare i ragazzi, è Aldo Ankev, non so dove è stato, che ci ha presentato, è stato l'unico che è riuscito a tirarci fuori del caso di Intoso. E' vero sai, io e Mike ci convigliamo una stanza lì, si chiama Villa Rosilla, lo conoscete? Sì, non è male lì, soltanto che le stanze sono un pochino piccole, infatti i letti sono a castello. Ok, dopo, facciamo un po' di nostalgia, logicamente, cavolo, stiamo parlando negli anni 60, e vedo che anche ci sta fra di voi, i nostri compagni del caso di riposo, eccovi, state anche là su. Facciamo un po' dei nostri vecchi dischi, un po' di Rock and Roll e Auli, e poi dopo, vediamo. Per il momento, ecco di nuovo. 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 Pergine un'altra mi piace, con la facciamo E' un'altra mi piace, e' un'altra l'altra E' una cosa che do rootvo ora d'a mehrta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti